Ok, per fare questo esercizio partiamo in posizione di affondo. Il piede sarà bene sotto al ginocchio del lato interno e spingerà verso l'elastico. L'elastico che utilizzeremo sarà portato all'antidezza superiore a quella della spagna. Lo impugniamo al punto di strano delle mani, lo portiamo verso l'addome, attiviamo bene la catena del core. Da qui cosa dobbiamo fare? Dobbiamo distendere il braccio esterno e spingere in un ipo verso il basso col braccio interno. Mantenetisi in altezza, in coro vivo e ritornate in posizione di partenza.